A Londra è tempo di scommesse su chi sarà il prossimo sommopontefice al posto di Benedetto XVI. Dopo l'annuncio delle dimissioni del Papa è scattato il totonomine. A salire nelle ultime ore sul podio, nelle quote di William Hill Bookmakers, è il ganese Peter Tuckson. È lui il favorito, come potete vedere dietro di me. In molti lo ritengono un successore molto probabile. Tanti altri però hanno puntato in genti somme di denaro sul canadese Mark Wellet, che è dato come secondo. Tra gli italiani avanzano in quota l'arcivescovo Angelo Scola e il cardinale Tarcisio Bertone. Anche se a farsi sempre più strada è l'ipotesi di un Papa Nero. Tra i maggiori favoriti c'è il nigeriano Francis Arinze.